La nostra azienda, la BFM SRL, è nata nel 1975 e ha la sua sede a Solbiate Olona. Costruiamo in generale macchine per materie plastiche, nello specifico costruiamo macchine da stampa per stampa su film plastico, saldatrici automatiche per la formazione di sacchetti e treni avvolgitori per impianti film per i maggiori costruttori italiani di film in bolla. Abbiamo un grande bacino nei paesi del Middle East, Arabia Saudita, Dubai, Emirati Arabi, poi lavoriamo molto anche a parte i problemi politici recenti con l'Iran, anche andando più là con l'India, abbiamo concluso una grossa commessa in Cina recentemente e poi abbiamo tanto mercato anche nei paesi del Nord e Centro Africa. In passato anche in Sud America, adesso un pochino meno. Abbiamo un quantitativo di ordini molto impegnativo e diciamo che il mercato sta tirando per il nostro settore. Le fiere sono sempre un modo per farsi conoscere, un modo per incontrare i clienti già acquisiti, per cui è importante esserci. Grazie a tutti.